Grande successo per la serata di Le Fonti Awards, tenutasi lo scorso giovedì 27 giugno a Palazzo Mezzanotte, con il patrocinio della Commissione Europea. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un faccia a faccia tra il giornalista e anchor di Le Fonti TV Alan Friedman e Corrado Passera, CEO di Limiti Bank, dal titolo Banche e Imprese, prospettive per il prossimo futuro. A boccato dell'anno boutique di eccellenza per la consulenza tributaria, il vincitore è Antonio De Luca di Le Fonti. Per essere, eccolo che arriva, un professionista brillante dotato di una fortissima expertise in ambito di diritto tributario, con particolare riferimento nell'attività di consulenza e assistenza su tematiche fiscali nazionali e internazionali. Per essersi distinto nel panorama legale italiano, per capacità tecniche, agilità di pensiero e notevole accuratezza. Complimenti. A Le Fonti Awards siamo in presenza dell'avvocato Antonio De Luca, al quale chiedo. Avvocato, il suo studio legale è una giovane boutique di eccellenza nel panorama italiano. Come è strutturato all'interno il suo studio e come risponde alle motivevoli esigenze da parte del mercato di consulenza e assistenza fiscale? Beh, la boutique è giovane, abbiamo iniziato sostanzialmente tre anni or sono, ma l'esperienza delle persone che la compongono è un'esperienza ultradecennale, è un'esperienza maturata ai massimi livelli della consulenza e nel contenzioso, provenienti sia da studi internazionali che anche dal mondo accademico. Quello che è la struttura sostanzialmente è un pochettino che ci qualifica, ma che anche ci differenzia sul mercato, è la modalità con la quale noi operiamo con i nostri clienti. Ognuno ovviamente ha una propria specializzazione, ha una propria area di competenza, ma è il modo con il quale noi ci interfacciamo sui progetti che fa la differenza, cioè il modo con il quale noi sostanzialmente facciamo sì che ci siano sempre delle analisi condivise su più piani, in modo da fare delle analisi che siano più puntuali, più comprensive, in modo da avere anche delle strategie più efficienti e che tengono in considerazione non solo i valori, ma anche i disvalori di alcune attività, di alcune operazioni o di eventuali contenziosi. E da questo punto, secondo quello che è lo schema tanto amato in Confindustria, si dipartano poi fatalmente quelli che sono dei piani operativi puntuali ed efficaci. Le nostre imprese vivono e sono proiettate in uno scenario internazionale del quale è fondamentale conoscere anche le dinamiche fiscali di tassazione per una corretta pianificazione nazionale e internazionale. In particolare è importante guardare da vicino quello che succede in Europa, proprio le relativi anche ripercussioni a livello naturalmente nazionale. Quali potrebbero essere gli scenari della fiscalità in Europa e quali impatti anche sulla fiscalità nazionale? Allora, gli impatti sicuramente sono, potrebbero essere, sono importanti. Per certi versi mi viene da dire che la fiscalità, sulla fiscalità l'Europa fa tanto e fa poco allo stesso tempo. È un po' una contraddizione, però dà la dimensione di quelle che sono le contraddizioni sistemiche che noi abbiamo in Europa. In Europa noi abbiamo un, mi permetto di fare questo inciso, per dire che noi non abbiamo una fiscalità condivisa all'interno dell'Europa. Se lei dovesse leggere il trattato di Maastricht, di istitutivo dell'Unione Europea, lei avrebbe un'unica voce relativa ad un tributo, che è quello dell'IVA, è l'unico tributo armonizzato. Per quanto invece riguarda tutte le altre voci di fiscalità, cosa succede? Succede che ci sono delle target measures, cioè quelle che sostanzialmente vengono adottate, onde evitare che ci sia la violazione della libertà di circolazione o d'altro. E abbiamo le sentenze della Corte di Giustizia Europea che ci danno un'indicazione di massima, ma non abbiamo una fiscalità condivisa. E questo sostanzialmente è un limite. Perché cos'è che noi abbiamo in Europa? Abbiamo che, per evitare che ci siano limitazioni di questo tipo, abbiamo le classiche direttive, che vengono continuamente poi promanate dall'Unione Europea, alle quali noi poi dobbiamo fare altro che implementarle con i nostri decreti legislativi. Ora, il tema, in verità, è un tema delicato, perché a livello europeo noi abbiamo dei progetti che dal 2015 sostanzialmente stanno tracciando o vanno nel senso di tracciare quella che è sostanzialmente una fiscalità condivisa e viaggiano per fare delle valutazioni in ordine a quella che è la base imponibile comune e poi per fare una ripartizione proporzionale degli utri su questa base imponibile comune. Ma di fatto noi ad oggi abbiamo l'implementazione, ad oggi, di quelle che sono direttive europee che sono null'altro che l'implementazione di quelle che noi abbiamo a livello Ocse, quindi a livello di implementazione di quelle che sono le normative antilusive contro la pianificazione fiscale aggressiva. E quindi noi abbiamo già nel 2019 quelle che sono delle direttive ATAD, la direttiva ATAD che va ad intervenire su alcuni particolari settori. E in questo senso noi abbiamo un contribuente, il contribuente, l'impresa, che si trova di fatto ad avere una legislazione nazionale concorrente con una legislazione sovranazionale che funziona a sua volta di una legislazione internazionale e che è quella che in qualche misura non va ad armonizzare, ma va a dirimere. E allora di qui perché diciamo che l'Unione Europea è tanta, perché abbiamo tante direttive, ma è poca? Ma perché sostanzialmente l'Unione Europea non rappresenta quella che è un'idea di Europa. Noi non abbiamo un'impostazione europea sulla fiscalità, ma abbiamo tutta una serie di misure che cercano di evitare quelli che sono gli arbitraggi fiscali, pianificazione fiscale aggressiva, ma non abbiamo un'armonizzazione. Probabilmente i passi che si sono intrapresi nel 2015 potrebbero essere più validamente portati avanti e portare un miglior frutto. Se no stiamo sempre a limitare oppure a implementare strumenti per dirimitare le controversie, piuttosto che avere degli strumenti che in qualche misura quelle controversie in nuce li eliminino.